Il bollettino relativo ai contagi covid aggiornato, ci sono tre nuovi casi positivi. Altri tre positivi, tre donne, una ragazza romena che vive a Esernia e che era giunta in ospedale al Veneziale per dei controlli quando ha scoperto di avere il covid, una donna di Campobasso tornata da qualche giorno dalla Sardegna e un'altra ragazza di Rocchetta al Volturno rientrata dall'India. L'aumento dei contagi da coronavirus che a livello nazionale nelle ultime 24 ore ha contato un più 1462 ed è il dato più alto dall'inizio di maggio, si continua a registrare anche in Molise. Il riscontro maggiore è sempre relativo alle persone che rientrano dalle vacanze e per questo l'ASREM sta programmando tamponi a tappeto. Sono 300 quelli processati nell'ultima giornata da cui appunto sono emerse tre positività. Ora i casi complessivi in tutta la regione sono 69 e tre persone sono ancora ricoverate in malattie infettive. Aumentano i soggetti in quarantena, ora 130. Intanto il sindaco di Macchiagoden ha reso noto che sono tutti negativi 31 tamponi processati dopo il caso emerso nei giorni scorsi della ragazza rientrata da Anzio. Ma gli esami in tutta la regione proseguono e l'incremento dei tamponi ne è una dimostrazione. Circoscrivere i cluster di rientro ed evitare che il contagio si allarghi ulteriormente analizzando i contatti dei nuovi positivi con tamponi a cerchi concentrici è sempre la priorità dell'azienda sanitaria. E allora leggiamo adesso primo piano Molise. In apertura prima campanella manca l'intesa sul trasporto alunni. Raggiunto l'accordo sulle linee guida per gestire i focolai nelle scuole entro lunedì i governi e i regioni devono trovare la quadra sui bus. L'ultima bozza prevede la capienza al 75%. Molti presidenti chiedono di posticipare l'avvio delle elezioni a dopo le elezioni. Toma, non è una cattiva idea, mi esprimerò in base a quanto accadrà nelle prossime ore. Il punto di Sergio Genovese, assalto alla scuola. Amava i cavalli e le moto, Cristian ora vola in paradiso. Webb inondato dai messaggi degli amici del 21enne morto sul cantiere a Pietracupa, cerce maggiore attonita, slitta la prossima settimana all'autopsia. Termoli investita da un'auto grave, un'anziana. Turismo, Luca Trapanese porta la sua principessa alba sui monti molisani. Guglionesi, grosso furto di rame sulla tratta ferroviaria a campo basso Termoli. Giornalista minacciato per un servizio in tv Digos sulle tracce degli intimidatori. Venafro sottratti dalle cassette delle poste e bollettini tari indaga l'arma. A Isernia, chiusa la querelle Giuseppe Posillico a capo del comprensivo San Giovanni Bosco. Sindaci in rivolta, rimpallo tra Regione e IMSS, lavoratori impegnati con i progetti di utilità diffusa senza indennità. È come sparare sulla Croce Rossa. Altri tre positivi di ritorno, una romena Isernia, una indiana Rocchetta e una donna di Campobasso rientrata dalle vacanze in Sardegna. Poi c'è lo sport con i lupi. Dal Cagliari arrivano il regista Corda e il portiere Piga a fare sforzini fattibile. Bastogirardi, gli altomolitani ingaggiano l'esterno sinistro Nando Raucci. Basket serie A1, la Magnolia debutta in casa dello Schio. Ed ora invece il messaggero. Scuola, niente corsi di recupero. Falsa partenza per il rientro in classe. Non ci sono fondi per i prof. Restano i debiti formativi. Sì, ai bus pieni all'80%. Si teme un boom di assenze tra docenti. Quattro Regioni riaprono dopo il 14. Importanza delle regole per superare l'emergenza. Il punto, affirma di Paola Severino. Casi non segnalati e nessun tracciamento. Ecco il dossier con le accusi alla Sardegna. Mi avevano detto, caro, negativo e invece ho portato il virus a Cortina. Il ragazzo romano, anch'io, ero a Porto Rotondo. Bonomi al governo, gli sgravi al sud siano permanenti. Confindustria chiede la stabilizzazione della decontribuzione del 30% nel meridione. Poi, io e l'Orso a me 49. L'ho catturato ma lo amo. Il veterinario De Guelmi, a mezzo metro da lui, non attaccava. Il Corriere della Sera. Macron, chiusura possibile in Italia. Contagi in lieve crescita. Per la scuola servirebbero 20.000 bus. Aumento esponenziale dei positivi. La Francia non esclude un altro lockdown. I camion dei soldati ora portano speranza. Eccoli qui a Nembro, mentre scaricano i nuovi banchi monoposto all'Istituto Alberghiero. Ieri hanno fatto questa operazione. Ovviamente sono previsti altri step. Malato per il troppo lavoro. Lascia il premier giapponese. La scelta di Abe. Non voglio che la mia salute incida sulle decisioni politiche. In campagna De Luca, avanti di 21 punti, cade la Lega e il sondaggio sul voto a proposito delle elezioni regionali. Sondaggio che accredita il presidente in carica. Vincenzo De Luca in vantaggio sul principale avversario che è Stefano Caldoro del centrodestra. PD primo partito. Poi c'è il tonfo della Lega dal 19,2 al 3,3%. E spostiamoci sulla Repubblica. Effetto Draghi sui leader. Gli elettori del PD divisi sul referendum. Torna il virus. Parigi, zona rossa. Record di nuovi casi in Francia. 7379. Macron. Un altro lockdown. Mai dire mai. L'epidemia spaventa l'Europa. Sardegna. La procura indaga sui locali del contagio. E i positivi rientreranno dall'isola con la protezione civile. Scuola stretta sui professori. Esentato solo chi ha malattie gravi. Di Maio troppe ombre su Paciola ha subito la verità. A Washington 50.000 in marcia contro il razzismo. L'avvocata martire lasciata morire in una cella turca. L'imam di Bamako non consegneremo il mali ai militari. Ed ora la prima pagina del fatto quotidiano. Salvini smentito. Sono migranti. Soltanto 4 infetti su 1000. I numeri del Viminale. 1218 positivi da marzo. È più facile contagiarsi a un suo comizio senza mascherine o nelle discoteche della Costa Smeralda. Esclusivo il piano Crisanti. Tamponi mobili nelle città. Flop dei camici e analisi in tilt. Il Lazio è in panne. Il sole 24 ore. Scuola. 80.000 assunti. Veri 25.000. Gualtieri firma il decreto per le emissioni in ruolo. I sindacati due su tre virtuali. Molte cattedre vuote al nord. Le stime. La Lombardia ne coprirà 5.000 su 18.000. Bonomi. È il momento di riscrivere da zero le politiche del lavoro. Spesi 100 miliardi ma i problemi non sono risolti. Troppo stato nelle imprese. Patuanelli. Rete unica. Allo Stato il ruolo di regia degli investimenti. E andiamo in chiusura con la gazzetta dello sport. Boom boom Milan. Can. Rosso. Neri. Scatenati. Dopo il rinnovo di Ibraimovic. L'accordo con il Real per lo spagnolo Diaz. E il talento del Brescia è a un passo. Superati i cugini nerazzurri. Juve. Il ritorno. Can era stato sacrificato due anni fa. Pirlo lo rivuole. Inter. Il casting. Cante su tutti. Nel mirino anche Thomas. Danizza. Via Altur. Nizzolo vede giallo. Ciclismo. È l'edizione numero 107. Prima di salutarci vediamo anche quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11. Conto alla rovescia. Alle 13. Camminando Molise. 13.50 Musa TV. Alle 14. Il TG. Alle 16. Conto alla rovescia. 18.30 DN Cronos. 19.30 TG. Alle 21. Paese mio. Alle 23. L'ultimo appuntamento con l'informazione. È tutto anche per questa mattina. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie per averci seguito.